Questo film che si chiama Divorzio d'Italia nasce da un libro di Arpino che si chiamava Il diritto d'onore. Poi ci fu una ribellione collettiva, un po' capitanata da me, sul fatto che, se dovessi fare ancora un film, sul fatto che il diritto d'onore veniva, andava venendo in testa quest'idea di rovesciare la situazione. Questo incontrò molti ostacoli da parte i produttori che erano abituati a vedere Germi come regista di film seri, film romantici o comunque passionali. E invece qui era un film comico. Questa idea qua ribaltò tutto, ribaltò tutto al punto che, dopo molto tempo e molte esitazioni, Cristaldi decide di farlo. Abbarò, e c'è Idio che stasse fermo coi mani? Attenzione tu che ce lo dico a tuo padre, lo sai poi lui com'è. E che ci posso fare io? Sta zitta, tu provochi. Ma se stanotte ha messo pure il cazzetone, viaggio alla porta. Ma Idio, appena me volto, dove vedi glielo te? E tu non ti devi voltare. Germi era uno molto attento, molto bravo, molto... Però la suonatura era completamente diversa dalla mia, che era più... maggiore garellone, meno serio, molto più divertito della cosa. E anche il portato allo sfottore. Lui in un certo senso, e forse aveva anche ragione, non è stato molto soddisfatto per il fatto che non abbia dato l'Oscar a lui come regista, anche l'abbia dato a Giannetti e a me. In fondo sono un tipo interessante, fine, intelligente. Lo stomaco, lo stomaco... Bisogna eliminare i grassi, bisogna eliminare gli zuccheri, i farinacei, bisogna eliminare tutto. E' molto amici tra di noi. Questo film è un po', come sempre, è un po' scompaginato nei nostri rapporti. Ma questo succede. Non esistivano gruppi di scrittura. Ognuno faceva una cosa con un'altra, faceva una riunione, si chiacchierava, il fiasco di vino appariva regolamente sulla nostra tavola e adesso andava avanti. Si lavorava, ognuno faceva un pezzo, si scudeva, si reggeva e basta. Poi con l'intenzione sempre di fare il più presto possibile. Quando sul finale, il famoso finale del film, il piedino, insomma, io che sono l'antimoralista per eccellenza, avevo proposto un finale completamente diverso. Da principio fu accettato e poi fu bocciato anche dalla produzione. Ed era. A un certo punto parla di fare il piedino con il matinalio. Allora si andava sul marzuello e si sentiva la sua voce che è ben conosciuta perché diceva si, 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 benissimo. Questa qui dunque, questa qui c'ha 400 milioni. Se già prevedeva un altro ossessinio, trova un nuovo mestiere, ammazzare le moglie. Il film era talmente visto con diffidenza che si pensava di farlo uscire per niente. e il film invece il primo giorno andò così. Il secondo giorno andò peggio. Il terzo giorno andò ancora peggio. Quattro giorni esplose. Andavano a vederlo un milione, invece un milione di cazzo. Sensazionale. Dopodiché non si è più fermato per tutto il mondo. Il film andò in America benissimo, senza sottotitoli. Perché la gente ritirava la situazione perché capita la chiave e sapendo che in America ammazzava la moglie, liberarsi da una moglie, era una questione di guattrini, spaventosa. E mi dico, la gente diceva, beh, ma al fondo, very clever, molto intelligente, il signore che mi andava in galera, due mesi di galera, due anni di galera, per riuscire a liberarsi dalla moglie. E non sono andato a nessun sette del mio film. Una volta solo aveva un film che si chiamava Unisse. E ci fu una discussione tra Edward Cracross e Anthony Quinn. E mi chiamarono a delimere questa discussione, ma se no non è andato. La Marcello era molto, molto buona, i tuoi amici. Mia moglietta diceva, ma è testimonia questa nostra amicizia. Ma i ricordi su Marcello che cominciamo a fare adesso, finiamo dopo Romanni. E' una persona apertissima, generosissima, piena di capacità di darsi alla gente, anche di sdarsi qualche volta. Ho messo la mia anima a nudo, anche i miei errori. Infatti c'è una certa verità nel film, che nasce proprio da questo. Per cui il film, la morale del film diventò Chi di sesso ferisce, sesso ferisce. Chi di sesso ferisce? Chi di sessoловieni... Grazie a tutti